Ciao, sono Emilia e ho fatto il corso Genio in 21 giorni a maggio. Sono una studentessa di ingegneria meccanica, ho 28 anni e devo ancora laurearmi alla triennale. Erano due anni che non facevo esami. Grazie al corso Genio ho ricominciato a fare esami, ho imparato il tedesco, ho fatto mille vocaboli di tedesco in due mesi e adesso mi sto preparando per imparare a sostenere un colloquio tecnico in tedesco entro pochi mesi. Il corso Genio mi ha letteralmente cambiato la vita dal numerone alle mappe mentali, un modo completamente nuovo di studiare. Riesco a gestire lo studio in molto meno tempo, riesco a lavorare e ho anche tempo per me stessa. Ho iniziato a fare uno sport, erano anni che non praticavo uno sport perché non avevo tempo per farlo e quindi grazie al tempo risparmiato col corso. Sono una persona nuova, felice, serena, studiare mi piace, mi diverto e ho tempo per fare tutto quello che voglio.